Sabato alla decima giornata giochiamo contro il Rivarta sul Mincio, l'ultima partita prima della vacanza di Natale alla quale ci siamo preparati molto bene e purtroppo diciamo nell'ultima parte della fase gioco di stasera ha subito un infortunio Gasparini alterando un attacco in seconda linea male e la caviglia destra sembra abbastanza compromessa e sicuramente sarà fuori per le prossime partite. Detto questo è una partita importante perché sì loro sono ultimi in classifica e noi comunque non è che siamo messi proprio bene, è una partita che potremmo e dovremmo vincere anche se, devo dire la verità, il Rivarta sta migliorando lentamente rispetto alla prima stazione del campeonato e quindi non sarà affatto facile. peraltro giochiamo fuori casa e pertanto la palestra sarà un minuto di vantaggio per la squadra che ci ospita. Poi noi termineremo questo turno la domenica con il campeonato giovanile, poi teneremo le ragazze a riposo per 4 giorni fino al 26, il 27, il 28, il 29 andremo a farci delle esperienze in vari tornei giovanili, dove andremo con le categorie alle 13 e alle 14 ad asti e mentre con la 16 e alle 18 andremo a fare un torne al suo a Lovareto. Il programma prevede poi che il 30 faremo una seduta appesi, il 2, il 3, il 4 e il 5 lavoreremo tutti i giorni in preparazione e chiaramente alla ripresa del campionato, sperando di ritornare nelle fasi agudistiche con un piglio maggiore a livello di intensità mentale e continuità della frontale delle varie partite.